Prima uscita estiva sulle montagne dell'Alta Valformazza, dove sono tornato a calpestare l'ultima neve, salendo al rifugio Maria Luisa e da qui ai laghi del Boden. Grazie per la visione! Salendo al rifugio mi ritrovo ben presto in mezzo ad una splendida fioritura di fiori alpini. Grazie per la visione! Dopo aver raggiunto il rifugio Maria Luisa proseguo la salita verso il vicino lago Toggia. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Lasciato alle spalle anche il lago Toggia, mi addentro nello splendido pianoro che porta al lago Kastel, per risalire da qui ai 2400 metri dei laghi Boden. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sullo sfondo, ecco il lago Kastel, ancora parzialmente ghiacciato. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Anche il primo dei tre laghi Boden, che ormai ho raggiunto, è in parte ancora ghiacciato. Grazie per la visione! 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 eccomi ormai sulla via del ritorno lascio la neve dei laghi Boden e ridiscendo verso il sottostante rifugio Maria Luisa e da qui a Riale grazie a tutti 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 grazie a tutti